Buongiorno a tutti ragazzi Allora prima che inizia il video Vi voglio ricordare che c'è questa linea Degli obiettivi fino al raggiungimento Finale che sarebbe l'uscita del videoclip Abbiamo raggiunto il primo obiettivo quindi Vi ringrazio a tutti quanti Cerchiamo di raggiungere i prossimi Perché il videoclip è tipo la cosa più spaziale del mondo Vero? Lui è natriano E niente ragazzi Buona visione Allora ragazzi Stiamo andando al supermercato Per fare la spesa Per il cibo più gigante Del mondo Devi urlare Danilo nei tuoi video Devi urlare brutto Urla No non urla Devi urlare Vattene via Danilo vattene via Vattene via Danilo vattene via Eccoci ragazzi siamo entrati dentro Io non voglio urlare Adesso non urlare perché mi fa schifo e merda E niente dobbiamo andare a prendere Le barrette di cioccolato Per fare Queste qua latte Per fare l'interno del kinder cereali Abbiamo deciso che facciamo quello Poi dobbiamo prendere queste Cioccolato cioccolatoso A stacchi cioccolato cioccolato E poi E poi il riso soffiato Che andremo a mettere insieme Al cioccolato bianco Che poi farà quella Lascia qua Namosene Namosene Lasciamola tutto Ciao Scusa non ho capito che dobbiamo andare a piare È il riso soffiato Ma esiste? Prendi il riso Esatto E soffia Namos Cercamo il riso Soffia Soffia Scusa non ho capito che dobbiamo fare noi Ma fai tu la fila Paghi tu Paghi tu Chi paga? Paga Simone Tu paghi 5 euro 5 euro 5 euro Sì Bella per te Mamma Tornetani Lasciami tutto No Bello Bella E i cari della macchina C'è là La mia chiave Vai 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 Allora ragazzi Come potete vedere Oggi c'è una persona Mi piace qui dentro È solo uno Ed è Il gatto C'è neanche il gatto Ti vuole Sei una m***a Pensavo dicessisi così Che cosa andremo a fare oggi raga Allora Andremo a fare Come già avete visto Nelle clip del supermercato Sbam Il kinder cereali Più grosso del tonno Ok Del tonno E niente E noi ci mettiamo all'opera Ora prendiamo Oddio No Simone Ma quanto è stupido Quanto C'è niente da fare Basta mangiare con la gatto Non sei normale Che schifo Ok Adesso Madonna quanto sono lunghe Ste barrette Basta Adesso Andiamo a dividere Queste fettone di cioccolata In vari pezzettini Perché almeno si scioglie prima Simo Fai una magia Falla già trova spezzata Vai Uno Due Due Tre Intanto Da questa parte La porco Due Abbiamo Tagliato Tutti Gli altri pezzi Con la cioccolata bianca Quella bianca dove andrà? In mezzo Mamma me Stanno a bruciare l'occhio Ma Sei un mago Cazzarola Ma adesso metteremo Quello che è successo Nel frattempo Sì Ciao Ti vuoi proprio sfondare una mano Insomma La magia è stata rovinata Ma non ho capito Ma non c'entra tutto È troppa Ma devo mettere l'acqua? Eh sì È troppo grande Secondo me No così secondo me si sfondano Cioè La brucia e passa Metti l'acqua Danilo che devi mettere? L'acqua Che devi mettere? L'acqua Che devi mettere? L'acqua Che devi mettere? L'acqua L'hai messa l'acqua L'hai messa l'acqua Oh Metti l'acqua No No Ma te Danilo Schiavizzato A fare i quadratini precisi E ci siamo noi invece Che abbiamo fatto Il bordello raro Però siamo migliori Mentre si cuoce Il suo culo a tuo Non andrei a mettere Adesso Danilo Adesso Mostro Non mi sembri molto capace Ok lo farò io Ok regalo adesso Ok regalo adesso No ma metti Cazzo brucia vivo Dobbiamo andare a mettere sto coso qua di dentro Non tutto eh Ah perché deve essere ridustrato Eh certo Deve essere poco poco Che schifo Ma Simone lo sai che mi ricorda? Ma cacca tua Esatto La faccia da bambino concentrato proprio Hashtag Bebisimosì Sì ma io non mi so fare Ste cose manuali Allora ragazzi Eravamo sbagliati perché Andava messa su quella Trasparente Dai che schifo Pare cacca Basta Va ora andiamo a spalmarla Spalmiamo questa cacca Cioè la consistenza è quella comunque Hashtag Disgusto per questo video Gang Ok ora andiamo a prendere tutti questi qua bianchi E andiamo a versare all'interno No non ce lo mette No Ok ora aspetteremo che quello si scioglie Ma io direi che non si scioglierà mai se non accendi il fuoco Ok regà La cioccolata Questa qua si è sciolta subito Quanto è bella È più bella di te Maramo se la fai cascare Se la fai cascare La voglio tutta nella ciotola Va 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 apponda Quanto è soddisfacente Aspetta Guarda 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 Adesso manca il tocco di classe No I cereali Kinder cereali senza kinder cereali Senza cereali Versa lì Basta Qual è la tecnica? Ti fa come gli spaghetti Come? Come gli spaghetti Giri al cucchiaio Hai vinto Hashtag Ma mi hanno detto che è uscito un video anche sul tuo canale Si Intervista doppia Intervista con Simone Vabbè regà Allora noi abbiamo fatto questa è sciolta E noi le mando a mettere questa sopra Perché mo Mo viene Cioè mi sa che la prima volta Verrà una cosa fatta proprio Bene Bene Certo che se la fai passare dal coso 18 anni 18 anni Buttati Buttati Voi dove siete licenziati Dai Mi sta da sfrattare Allora regà Non siamo capaci di fare niente Non sappiamo dare una forma Al coso Col fatto che la befana Vien di notte Vabbè Noi Andremo a mettere Co de ste cose Ma mi spieghi qual era il nesso Con la befana? Perché la befana mi ha portato questi Cioè i papà simosì che sgridano il baby simosì Non si è mai sentito Anche noi ti sgridiamo Visto che non c'èmo una lira Siamo poveri Ci mettiamo questi Ok mi sembra giusto Abbiamo fallito anche questa volta Quando YouTube ci darà i soldi della canzone Forse potremmo permetterci Perché è uscito una canzone Simone? Allora ragazzi Andate tutti ad ascoltare la mia canzone Che è uscita su Spotify E su YouTube ancora no No Mettiamo Guardate quanto è bello raga Mamma mia è buonissimo Buonissimo? Già lo sento È proprio No Leva Tanto è venuto male come tutti i nostri video No Abbiamo messo in freezer Il nostro Kinder Cereali più brutto del mondo E aspettiamo tipo Non so quanto Due ore Due ore e te Ok raga Ci sono passati due ore Quindi adesso andremo a tirare fuori Lo scrigno della cioccolata Sondaggio Allora secondo voi è venuto Sì o no? Secondo te? No Secondo te? Sì No è sempre no Guardalo È perfetto Calcola è perfetto Ok raga Andiamo 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 allo scartaggio Abbiamo fallito un'altra volta Sì No vai 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 Aspetta piano 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 che si sfonda Fai così Un po' così Eccolo 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 Fate schifo E non siete capaci A fare niente Ma stai zitto tu Eccolo 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 Oh mio dio Scrivete nei commenti se secondo voi è venuto Vabbè dai è un po' sciolto Dovevamo tenere un altro po' al frigo Simone È venuto Non ti preoccupare Siamo stati capaci questa volta Dai è venuto Siamo solo sprecato delle dice Questo è mio cazzarola Oh com'è Questo raga Se stava un altro po' al frigo Questo diventava la cosa tipo più buona del mondo Stanotte Tutti corca cotto Quindi per questo video Disgustoso è tutto Scrivete nei commenti se vi è piaciuto Se no Non è poco Cioè il gusto è sempre buono Poi la forma è un po' quella che è Nenzi Simone diventerà un ciccione